L'ospite odierno è la poetessa Maddalena Capalbi, romana di nascita e milanese d'adozione. Vorrei leggere un estratto del passaggio, della nota introduttiva di Paolo Barbieri al tuo ultimo libro in dialetto romanesco, Ribelle, il verri editore 2018. Barbieri scrive così, Maddalena Capalbi è riuscita nell'impresa di unire il classico ad un dialetto più moderno, salvando però in molte poesie il gusto per l'invettiva e la battuta sagace e popolaresca. Allora facci sentire magari qualche tua poesia, che ne dici, tratta da ribelle? Ah beh certo, sì sì sì, è un libro a cui tengo molto perché è un po' una sfida che ho fatto, visto e considerato che sto a Milano, sai, a Roma il dialetto non è semplice da portare avanti se non sei lì sul posto. Quindi ho fatto un bel lavoro secondo me ed è un libro più che altro, è un'invettiva nei confronti della società, la politica, la chiesa, sì bisogna che ti lega qualcosa.